Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo presentavano a Gesù dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E prendendoli tra le braccia, li benediceva, ponendo le mani su di loro. Dio è amore e si partecipe alla sua opera quando si ama con Lui e come Lui. A tale scopo, disse San Paolo, l'amore è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. E questo è anche l'amore che viene donato agli sposi nel sacramento del matrimonio. È l'amore che alimenta il loro rapporto attraverso gioie e dolori, momenti sereni e difficili. È l'amore che suscita il desiderio di generare i figli, di attenderli, accoglierli, allevarli, educarli. È lo stesso amore che nel Vangelo di oggi Gesù manifesta ai bambini. «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno del cielo». «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo a me, non glielo a me, non glielo a me, non glielo a me. Non glielo a me, non glielo a me, non glielo a me, non glielo a me.